Ciao a tutti e benvenuti con un nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, come promesso in questo video vi mostro la moneta 100 Drakme che è stata coniata poco prima dell'ingresso della Grecia nell'Euro, quindi è una delle ultime monete in Drakme che è stata coniata dalla Repubblica della Grecia. Si tratta di una bella moneta abbastanza sostanziosa, composta da una lega di bronzo e alluminio, pesa 10 grammi ed ha un diametro di 29,3 mm. E' bella anche da tenere in mano, si sente che ha una certa consistenza. Prima di iniziare a parlare di questa moneta nel dettaglio e di parlare anche del suo valore, ti ricordo di cliccare un bel mi piace ed iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi video. Si tratta di un'operazione semplice e gratuita che ti permette di sostenere il mio lavoro. Il disegno che troviamo raffigurato su questa faccia della moneta è una stella a 16 punte che è il simbolo della Macedonia. Nella parte più alta troviamo una scritta in greco che significa Repubblica Ellenica, quindi capiamo che stiamo parlando appunto di una moneta della Grecia. Il simbolo piccolino che troviamo qui sul lato sinistro è il simbolo che indica la zecca della Grecia, quindi altro dettaglio identificativo della nazione di questa moneta. Subito accanto troviamo l'anno di coniazione, nel mio caso il 1992, ma questa moneta è stata coniata dal 1990 fino al 2000, quindi fino a poco prima che la Grecia entrasse nell'euro. Sul lato destro troviamo invece un'ulteriore scritta in lingua greca, significa Vergina ed è praticamente una località molto molto famosa dal punto di vista archeologico e infatti a Vergina sono stati scoperti i resti delle antiche tombe reali di Macedonia. Giusto per fare un nome molto importante, lì si trova la tomba di Filippo II di Macedonia, che per chi non lo sapesse è il papa di Alessandro Magno. Poi nella parte finale troviamo 100 scritto in cifre e poi scritto in greco drachme, quindi moneta da 100 drachme. Ruotiamo finalmente la nostra moneta e scopriamo quello che è, a mio parere, uno dei personaggi storici più importanti, non solo della Macedonia, della Grecia, ma secondo me di tutto il mondo. Ruotiamo la nostra moneta, le drachme non si ruotano come le lire, che ruotiamo dal basso verso l'alto, ma si ruotano come gli euro, quindi da destra verso sinistra. Ruotiamo la nostra moneta e qui troviamo quello che, a mio parere, è il magnifico ritratto di Alessandro Magno. Una moneta davvero molto molto bella, molto suggestivo. Se la moneta da 50 drachme con Umero dava un tocco di storia antica, bene ragazzi, questo, a mio parere, lo dà ancora di più. Quindi, come dicevamo, ritratto in grande di Alessandro Magno e sopra troviamo in scritto in greco proprio Alessandro Magno, mentre nella parte sottostante troviamo quello che in greco viene tradotto come re dei Macedoni, quindi Alessandro Magno, re dei Macedoni. Troviamo poi sotto il collo una piccola sigla che non ne sono sicuro al 100%, ma quasi, dovrebbe essere la firma dell'incisore, dell'autore della moneta, ovvero un certo Sampatacos. Per quello che riguarda questa moneta non ci resta che parlare adesso di eventuali quotazioni di mercato. Si tratta di una moneta che durante il corso degli anni è stata coniata in un numero molto molto alto di esemplari e quindi le quotazioni anche in fior di conio, cioè anche se avete una moneta perfetta, non sono alte. Infatti, una moneta perfetta, quindi mai circolata, che viene detto in gergo numismatico come moneta fior di conio, ha un valore che oscilla tra 1 euro e 1 euro e 50 e questa oscillazione dipende principalmente dall'anno di coniazione, ma non va mai sopra l'euro e 50. Quindi è una moneta molto bella da avere in collezione se si collezionano le monete di tutto il mondo, magari quelle pre euro, perché è una bellissima moneta che ha un prezzo super accessibile. Secondo me, se avete intenzione di acquistare questo tipo di monete, vi potete acquistare con pochi euro tutta la serie di quegli anni, diciamo, tutta la serie pre euro tra le ultime monete coniate in dracma. Mio parere è una moneta molto molto bella da associare sicuramente almeno a quella di Omero da 50 dracma e possibilmente anche a tutte le altre. Se vi fa piacere vi faccio vedere anche tutte le altre monete degli stessi anni e vi parlerò di tutti i dettagli che conosco di ciascuna moneta. Dubbi, domande, commenti? Scrivete pure tutto quello che vi piace ma anche un semplice saluto nei commenti a me fa sempre piacere leggervi e vi rispondo a tutti e se volete se siete interessati alle tirature alle quotazioni di altre monete che non ho ancora trattato tra i miei video scrivete pure un commento e io cercherò di accontentarvi quanto prima. Se vi fa piacere vi ricordo ancora una volta di cliccare un bel mi piace per sostenere il mio lavoro di iscrivervi al mio canale YouTube Monete di Valore e se volete nella descrizione trovate anche il mio canale Telegram se vi fa piacere potete seguirmi anche da lì. Non mi resta che augurarvi buon collezionismo da me e da questa bellissima moneta di Alessandro Magno è tutto un saluto a tutti ciao 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 Grazie.